Sala Bande a Vallebona ha ospitato il primo evento, una conferenza di Riccardo Lanteri sul patrimonio UNESCO della Francia. Io ho scelto la Francia perché è una nazione che conosco meglio. Ho vissuto i miei primi dieci anni di vita in Francia e conosco abbastanza bene la regione. Le prossime conferenze le farò la Spagna, poi Portogallo e poi la quarta lezione andrò in Gran Bretagna e poi farò l'Irlanda e il Benelux, cioè le tre nazioni, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Dopodiché andrò in Germania, dopodiché ancora faccio l'Austria, la Svizzera e poi andrò in Polonia e scenderò poi nel paese di mia moglie, cioè l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e poi ancora più in giù la Bulgaria e tutti i paesi balcani che ci sono e termino lì. Ah, farò anche la Romania, ho dimenticato, sì. E un pezzo di Russia, poco poco perché ho compreso tutto in dieci conferenze. E per l'Italia ho preparato solo per l'Italia quattro conferenze, che faccio ogni tanto, ne metto una dell'Italia quando faccio il ciclo di conferenze. L'Italia ha 59 siti e di 59 sono riuscito a coprirne con queste quattro conferenze una quarantina. E quindi è un numero che mi soddisfa e mi va bene. E quindi è un numero che mi soddisfa e mi sono riuscito a coprirne con queste quattro conferenze. Grazie. Grazie. Grazie.